Oggi presentiamo il nostro progetto l'Officina della Creatività, il Museo Virtuale dell'Energia. È un progetto Erasmus Azione AK2 che coinvolge diversi paesi europei, due scuole spagnole, una portoghese e una greca e coinvolge anche le istituzioni perché la Regione Abruzzo, nel dipartimento proprio che si occupa di energia, è partner del nostro progetto. È un progetto che ha avuto il riconoscimento appunto di essere selezionato dall'Agenzia Nazionale tra tantissimi progetti. È l'unico in Abruzzo a aver avuto il finanziamento, è risultato quinto sui circa 40 progetti selezionati e siamo veramente orgogliosi di questo riconoscimento e anche dell'input che ricevono i nostri studenti e gli studenti europei rispetto alla problematica energetica. È importante sensibilizzare i ragazzi di oggi proprio su quelle che saranno le energie del futuro. Sì, è importantissimo che a scuola i ragazzi trovino gli stimoli che poi li spingeranno nel loro futuro lavoro ma anche nella loro vita quotidiana a valorizzare quello che è il rinnovo dell'energia e evitare gli sprechi e ritrovarsi poi, questo è molto importante, in questo museo virtuale a cui collaborano tutti gli studenti e i docenti delle varie nazioni e che rimarrà patrimonio dell'intera comunità europea.